Ben ritrovati gentili telespettatori, edizione del Veneto orientale del telegiornale in apertura. Parliamo di cronaca e torniamo a parlare dello scandalo delle case di riposo nel Mirino, finita appunto la Sereni Orizzonti e da Motta di Livenza il direttore del personale che era stato arrestato e ora è stato scarcerato. Sentite il servizio di apertura del nostro telegiornale. Federico Carlassara, l'ex direttore del personale di Sereni Orizzonti, ha lasciato il carcere di Udine. Il 46enne, nativo di Motta di Livenza, residente a Maiano, ha ottenuto gli arresti domiciliari. L'istanza, presentata dall'avvocato Maurizio Miculana dopo il secondo interrogatorio sostenuto in carcere da Carlassara, è stata accolta dal GIP Maria Rosa Persico. Dopo le informazioni rese dall'ex direttore del personale durante l'ultimo interrogatorio, il giudice ha ritenuto quantomeno affievolito il pericolo di inquinamento delle prove, cioè il motivo che aveva portato al respingimento della prima istanza presentata allora dall'avvocato Fausto Discepolo. Dopo l'ex consigliere di Sereni Orizzonti, Marco Baldassi, quindi, ha lasciato il carcere anche il direttore del personale. In cella rimangono solamente Iudmila Iani, la direttrice di Area 1, che gestiva direttamente le strutture assistenziali in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Sicilia e Lombardia, e Massimo Blasoni, il fondatore del gruppo Sereni Orizzonti. A Trieste, invece, è una giornata chiave con l'udienza per il riesame. A decidere, appunto, sulle misure cautelari in carcere, che hanno colpito Blasoni e Iani, l'istanza depositata dai legali, ha puntato a far ottenere a entrambi gli arresti domiciliari. Quanto al sequestro di 11 milioni disposto dalla procura il 24 ottobre, è stato già revocato. La società ha impegnato come cauzione da 5 milioni lo storico Palazzo Keckler di Piazza 20 Settembre a Udine, ottenendo così lo sblocco delle liquidità congelate. Massimo Blasoni, accusato di truffa ai danni del Sistema Sanitario Nazionale, era finito in carcere, sparato di Udine, il 24 ottobre. Come ha riferito l'avvocato Luca Ponti, ha studiato le carte dell'inchiesta proprio per organizzare la sua difesa. E intanto, sul lavoro di indagine, prosegue la Guardia di Finanza di Udine, che continua ad ascoltare persone che possono fornire ulteriori indicazioni sui fatti oggetto dell'inchiesta. E ora parliamo di evasione, evasione fiscale, quella verso gli enti, come il caso di una comune, quello di Meolo, che davvero sta registrando un'evasione fiscale da record, e così l'amministrazione punta a incassare quanto dovuto ricorrendo all'Agenzia delle Entrate. Evasione fiscale per 416.200 euro. A tanto ammontano le tasse comunali non pagate dai contribuenti nel triennio 2012-2015, accertate dall'amministrazione comunale di Meolo. Una situazione alquanto preoccupante, l'ha definita l'assessore al bilancio Giulia Vio, che ha informato il Consiglio Comunale della decisione della Giunta Pavanna di affidare all'Agenzia delle Entrate una delega per riuscire a riscuotere quanto dovuto. La delega dell'Agenzia sarà affidata da subito, ma, precisa l'assessore Vio, ci vorrà circa un anno per riscuotere, si spera, almeno in buona parte delle entrate tributarie e patrimoniali non incassate. L'accordo prevede che l'Agenzia delle Entrate ottenga una percentuale del 3% delle somme recuperate, oltre a eventuali rimborsi. La decisione di affidare all'esterno il recupero dei crediti è stata spiegata con la necessità del Comune di incassare nel modo più rapido e diretto quando da anni avrebbero dovuto pagare i contribuenti oltre 400 mila euro, solo una cifra considerevole per il cofune di Meolo. Questa situazione sta avendo conseguenze serie nel nostro bilancio, ha sottolineato Vio. Il mancato incasso di quelle entrate non permette di far fronte alla spesa corrente e quindi di rispondere ai bisogni dei cittadini. E' un'azione necessaria che andava fatta già negli anni scorsi, anche per rispetto verso coloro che pagano puntualmente i tributi. Sorprende scoprire che la precedente giunta a Liprandi non abbia avuto il coraggio di avviare sanzioni incisive sul recupero del credito, provocando così un ammassarsi di insoluti, dove più passa il tempo e più si abbassa la probabilità del loro recupero. Nei cinque anni precedenti, ha ricordato l'ex assessore al bilancio e l'attuale consigliere di opposizione, Gianpiero Provesan, abbiamo cercato di andare incontro ai cittadini in difficoltà economica con la rateizzazione, ma ci sono anche cittadini che non pagano proprio le tasse e questo è un danno per la comunità, perché queste mancate risorse possono portare a dover tagliare i servizi. L'assessore Vio ha comunque rassicurato che non ci sarà una mannaia per i debitori e che saranno presi in considerazione i casi di persone in difficoltà. Il Vio ha la riscossione coattiva da parte dell'Agenzia delle Entrate. La riscossione è stata infine approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale. Cambiamo pagina, parliamo della viabilità e del problema di San Nicolò a Porto Gruaro, il rione più popoloso della città dell'Emene e del grande caso che ha sollevato di recente il comitato, quello dello smog, che a San Nicolò è addirittura più elevato di Marghera. E allora da lì si punta a cercare di limitarlo anche con la viabilità e c'è stato già un incontro per discutere sul futuro della strada metropolitana 251, quella che dall'autostrada porta al cuore di Porto Gruaro. Sentiamo il servizio. Riapertura di un tavolo sulla strada metropolitana 251 che coinvolga non solo il comune di Porto Gruaro, la città metropolitana, l'ANAS, la regione e Autovie, ma anche il comune di Gruaro e il consorzio di Bonifica. È la promessa che il comitato San Nicolò è riuscito a strappare all'assessore all'attività produttive Luigi Geronazzo nel corso dell'incontro che si è tenuto nella sala parrocchiale del quartiere. San Nicolò negli ultimi 30 anni ha stigmatizzato il presidente Ennio Vitt, ha subito solo devastazioni. Siamo l'area abitata più vicina all'autostrada e la più colpita dall'inquinamento prodotto dal traffico. Abbiamo bussato a tutte le porte e nessuno ci ha mai veramente ascoltato. Il consulente tecnico del gruppo, Roberto Drigo, ha illustrato i dati sulla qualità dell'aria con dati medi-annui del PM10, tre volte superiori a quelli limite. Sui mezzi che circolano alla vicina autostrada responsabili per il 47% dell'inquinamento, sulle prescrizioni inerenti, le opere di mitigazione contenute nel progetto definitivo dell'allargamento autostradale che poi non sarebbero state recepite nell'esecutivo approvato dal Cipe. Sulle proposte ancora contenute nel vecchio accordo di programma del 2010 che prevedeva la realizzazione di una bretella tra la rotatoria degli alpini di Summaga e il rondò di accesso all'autostrada, Drigo si è chiesto come è possibile che nella conferenza dei servizi per l'ampliamento dell'A4 svoltasi nel 2017 nessuno abbia sollevato obiezioni. E anche il sindaco di Gruaro, Gasparotto, ha ricordato l'accordo del 2010 ramettando che le previsioni in esso contenute sono rientrate anche nei piani di assetto di Gruaro e di Porto Gruaro. C'è un progetto definitivo della terza corsia da Porto Gruaro a San Donato a fare ha sollecitato Gasparotto sediamoci attorno a un tavolo con tutti i soggetti coinvolti e barriamono. Siamo aperti a qualsiasi tavolo ha garantito l'assessore Geronazzo che ha sottolineato anche come Anas stia già ragionando su un piano alternativo a quello bocciato dal Ministero. Intanto il sindaco si è appellato alla regione l'assessore alle infrastrutture De Berti ha detto senatore saprà essere vicino alla città per risolvere il problema della viabilità. A Sedona di Piave invece l'archivio del consorzio di bonifica pronto per la ricerca di chi evidentemente ha bisogno di questi dati. Sentite il servizio con Brogi. Come qualsiasi altro archivio se non è schedato, ordinato, inventariato l'archivio di fatto non è utilizzabile non è pensabile di fare ricerca in un archivio se non c'è uno strumento che consenta di come diceva Filippo Valenti di muoversi all'interno dell'archivio e quindi di ritrovare ciò che è utile per la ricerca noi siamo in un consorzio di bonifica stamattina è già stato ricordato che questo patrimonio che è stato messo a disposizione viene tuttora utilizzato dagli impiegati del consorzio proprio per finalità ancora pratiche. Si dice che un archivio è un complesso e in quanto tale necessita di un intervento molto articolato qui il problema non è soltanto legato alla mole della documentazione quindi stamattina è già stato ricordato oltre 13.000 unità di condizionamento ma l'altro aspetto è che l'archivio del consorzio di bonifica ha materiale diverso quindi non soltanto quello che meramente possiamo chiamare documenti cartacei ma lucidi, ha mappe, ha materiale relativo a tutte le costruzioni messe in atto per contenere e regimare le acque e quindi ecco da parte degli archivisti è necessaria una conoscenza una competenza, un'abilità che riesca a intervenire anche su questi materiali. Serve anche una competenza trasversale da quella storica, cartografica non solo archivistica una conoscenza e competenza a tutto tondo? Infatti i collaboratori, i ricercatori, gli studiosi che si sono occupati della schedatura e poi della predisposizione di questa piattaforma che è già online ecco, questi studiosi provengono da specializzazioni a discipline diverse abbiamo archivisti, abbiamo storici abbiamo archeologi e anche geografi perché per l'appunto sono necessarie tutte queste conoscenze e competenze per poter fare un intervento assolutamente completo A Taglio Veneto Aldo Crutarelli è andato a sentire il sindaco Cicuto che ha parlato dei fondi per nuovi progetti il sindaco dice siamo pronti a discuterne a metterli sul tavolo per affrontare i nuovi progetti sentiamo le sue parole Sindaco, il PSL che è quello che gestisce ormai attraverso il GAL tutti i contributi per queste cose diciamo termina nel 2021 2020 e 2021 in pratica deve ancora partire ecco se non se i sindaci non premono e non vogliono solamente le loro prebende per i propri territori ma fanno quello che dice lei probabilmente nel 2021 avrebbero fatto solo l'orario di contazione non il lavoro come sta succedendo adesso lei ha detto bene nel 2020 finiscono i fondi di prima sono passati 5 anni anzi 7 perché hanno cominciato 2 anni prima sì questo è vero io come le dicevo prima sono sindaco dal mese di maggio però ricordiamo che stiamo già preparando i fondi per il 2021-2027 e qui deve essere c'è il cambiamento io non voglio pensare male delle amministrazioni precedenti non solo alla mia ma anche degli altri comuni parlo questo però dico i bagli forse sono stati fatti miglioramenti sicuramente si possono mettere in atto quindi se qualcosa non è andato secondo i pensieri secondo i progetti abbiamo la possibilità di cambiare di mettere a posto di collaborare l'importante è che ci sia la volontà dell'amministrazione che ci sia la volontà dei sindaci e devo dire la verità per il piccolo periodo insomma in cui io sono amministratorio ho visto che la collaborazione con gli altri comuni c'è c'è la voglia di collaborare c'è l'opportunità ma non solo perché magari siamo sindaci giovani che a volte si parla ma voi siete sindaci giovani e quindi è più facile per voi non è vero perché comunque sono sindaci che hanno più esperienza io non voglio definirli in altro modo ma sono sindaci che hanno più esperienza sicuramente si può carpire possiamo portare la nostra esperienza le nostre modifiche insieme si discute si collabora e questo lo dico sempre per il territorio non per noi stessi ecco diciamo che i soldi che arrivano nel Veneto orientale dovrebbero servire anche per far crescere le attività del Veneto orientale diciamo che non sempre è così ma questo dipende dalla bravura degli amministratori della capabilità io non voglio mai dare colpa agli altri noi amministratori siamo il territorio e noi dobbiamo fare per i territori dobbiamo impegnarci per il territorio solamente in questa maniera le cose possono cambiare volere e potere si vuol dire e ora andiamo a Fossalta di Portuluaro per parlare di scuola lavoro di un'esperienza che a quanto pare permette di conoscere le proprie passioni lo spiega Battiston appunto già intervistato appunto da Aldo Curtarelli il quale appunto ha raccolto queste parole in cui si spiega come dalla scuola si può davvero poi essere orientati verso il lavoro che si sta cercando sentite Siamo con Maurizio Battiston oggi siamo qui all'ITIS di Portuguaro alla scuola tecnica con la Confartigianato lei è un esponente della Confartigianato di Portuguaro e siamo qui per il rapporto scuola lavoro lei nella sua azienda sicuramente avranno dei stegisti dei ragazzi che cercano di capire quale sia il futuro qual è il lavoro ma soprattutto quale sarà poi il loro futuro e questi ragazzi che vengono secondo lei che ha un'esperienza sul campo quale valore aggiunto poi riescono a avere dopo questa esperienza penso che l'esperienza che portano a casa è quella di percepire la passione che si mette anche nel lavoro e quindi non è soltanto un bisogno andare a lavorare ma è anche una passione quindi penso che la cosa più importante è per loro percepire se è una cosa che piaccia perché penso che la passione che metti nel lavoro fa la differenza sia anche per vivere bene il lavoro e anche per esprimere le proprie passioni e doti quale attenzione ci mettono questi ragazzi quando vengono cioè come li vede interessati un po' così spaisati secondo lei come li vede allora noi abbiamo avuto abbiamo ogni anno due tre stagisti anche da questa scuola e siamo stupiti che si parla tanto che i giovani non vogliono fare invece vedo molta curiosità da parte loro sia nel vedere le tecniche di lavoro ma anche far parte di tutto il flusso lavorativo di fatti la nostra metodologia di inserirli gli fagli fare tutto il giro dell'azienda un po' per ora o giornata ma fagli vedere tutto il complesso lavorativo ecco la Confortigianato sempre in prima linea devo dire che anche le altre categorie si stanno muovendo un po' tutte ecco ma secondo lei che ha un'azienda e per cui non è sulla stanza di bottoni poi delle associazioni il rapporto tra tutte queste associazioni poi che tutte quante sono legate al lavoro che gestiscono secondo lei ci sarebbe l'opportunità invece di cercare di unirne un po' di più ma penso che il lavoro che stanno facendo è giusto e secondo me incentriventerei il lavoro che collega il lavoro con la scuola perché averli sempre più a contatto diretto per noi capire anche la gioventù ma anche per loro capire cosa potrebbe piacere per il futuro adesso gli scatti dal territorio come Inizio Scortegagna arriva Fotto Reporter grazie a buon proseguimento con la rete ritorneremo con le altre news quindi rimanete con noi alla prossima